Giuseppe non c'è e tu che fai? Bella domanda Proviamo a rispondere Giuseppe non c'è e tu smetti di studiare Ti fai bocciare Giuseppe non c'è e tu ti colori i capelli Almeno faccio qualcosa E che fa? Adesso che hai i capelli blu Giuseppe torna? Amunì Sei più intelligente di così Quindi secondo te dovrei fare finta di niente Come tutti Tanto la vita continua, vero? Perché non è così? Lo sai anche tu Che stai diventando grande Magari quelli che l'hanno rapito li conosciamo Magari sono qui in paese Dovremmo ribellarci tutti Sino a quando non lo trovi Lui no Cerca di ragionare Lui è la mia vita Lo capisci cosa significa? Pensare a lui sempre Chiedersi tutto il tempo dov'è Se è vivo Se è morto Sentire la sua voce nella testa Lo capisci cosa significa? Sapere che ha bisogno di aiuto E non riuscire a fare niente per lui Piangere ogni sera prima di addormentarmi Avere la nausa al solo pensiero di andare a scuola E non trovarlo Lo capisci cosa significa? Io non ce la faccio a non pensare a lui E non voglio Io non ce la faccio a non pensare a lui